Un primo segnale di cambiamento, così il presidente della regione Basilicata Vito Bardi ha definito la nomina dei nuovi direttori generali di direzione, non più di dipartimento, secondo quanto stabilito dal nuovo ordinamento. Un passaggio annunciato nelle scorse settimane in consiglio, nell'ambito della riorganizzazione e rotazione del personale nei ruoli dirigenziali dell'ente di Viale Verrastro. Quattro le conferme, con cambio di ruolo e altrettanti ingressi, in particolare per quanto riguarda ambiente, infrastrutture e sanità. Eliminato il dipartimento della presidenza della Giunta, al suo posto la direzione generale, personale e organizzazione vedrà la guida della riconfermata avvocata Maria Carmela Panetta. Nel resto delle direzioni che si attestano alla presidenza, Alfonso Morvillo, attuale direttore dell'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del CNR, indicato al vertice della direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, mentre al vertice della stazione unica appaltante sua, destinato il gen organico ed avvocato donato del corso. Alla guida di salute e politiche della persona vi andrà l'altro riconfermato dottor Domenico Tripaldi, in carico alla direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, invece per la dottoressa Emilia Piemontese, già dirigente area tecnica del commissario delegato della presidenza del Consiglio dei Ministri, individuato l'ingegnere Roberto Tricomi per il vertice di infrastrutture e mobilità. Canio Alfieri Sabia, ricercatore del CNR, è stato indicato allo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità. Geologa e già direttrice della sua, Liliana Santoro, infine, andrà a rivestire l'incarico di vertice ad ambiente ed energia. La Regione Basilicata, ha detto Bardi, avrà nuove competenze, grazie anche ai concorsi, differenti sensibilità e un rinnovato know-how. Sono elementi fondamentali in vista della sfida cruciale del PNRR. Nel fine settimana, annunciata anche la nuova giunta e ulteriori provvedimenti, finalizzati ad aumentare efficienza ed efficacia della Regione.